Scott, ho detto che è finita. Sei troppo immaturo per me. Mi guardò perplesso, poi disse... Eh? Cosa? Tesoro, stiamo bene insieme. Girai gli occhi. Ho pensato che non ho bisogno di stare con un tipo così infantile. Ho bisogno di uno maturo e... Come vuoi Linda, cercami quando cambi l'idea, grugnì. Poi si mise gli auricolari e se ne andò. Beh, a 15 anni avevo bisogno di un tipo maturo, non di un perdente che rideva alle battute sulle scorreggie. Dai! Le mie amiche Patty e Lois erano d'accordo. Sono troppo popolare, bella e sicura di me per uscire con chiunque. Comunque, come la fortuna vuole, stavo camminando nel corridoio della scuola, quando vidi un tipo dall'aspetto perso ma super bello. Sciogliendo i capelli mi avvicinai con la mia voce amichevole. Ehi, stai bene? Agitato rispose... Sì, da che parte è l'ufficio del preside? Vado comunque di là, ti faccio vedere. Era una palese bugia, dato che la mia classe era nell'altra direzione, ma lui non lo sapeva. Più tardi quel giorno entrai nella classe di fisica con Lois e mi fermai. In piedi davanti alla classe c'era quel bel tipo. Lui invece era il supplente del prof e sulla lavagna dietro di lui c'era scritto il nome, Mr. Holton. Il mio nome è Colin, a proposito, sorrise. Sussurrai a Lois. Sembra che la lezione si sia riscaldata. Poi mi avvicinai al mio posto. Non potevo concentrarmi sulla densità dei materiali. Non con il prof più sexy che condivideva la mia stessa aria. Dovevo cercare di conoscerlo e mostrargli che non ero come le altre della mia stessa età. Invece ero molto più matura e sicura di me stessa di loro. Così, alla fine dell'ora, mi avvicinai e gli chiesi se mi avrebbe spiegato delle cose. Accettò volentieri, così mi misi accanto a lui e fantasticai nel profumo della sua colonia muschiata. Fisica divenne la mia preferita. Con la testa tra le mani lo guardavo parlare alla classe. Vide che lo guardavo qualche volta, ma distolse sempre lo sguardo. Va bene, ho capito. Cercava solo di essere professionale. Poi una volta fece la domanda, secondo Einstein, la luce una particella o un'onda. Alzai subito la mano e sorrisi. Sembrava un po' agitato. Linda? Arricciai le labbra, lo guardai dritto negli occhi. Quel colore di camicia le sta proprio bene, signore. Risalta i suoi occhi. Alcuni compagni di classe risero e lui giocherellò con il suo colletto. Che carino! Poi tossì e disse, Linda, sai la risposta? Oh, qual è la domanda? Lo fissai sognante. Onestamente non ricordavo nient'altro che il suo sguardo affascinante e severo. Poi un pomeriggio Colin mi chiese di rimanere dopo la lezione. Vittoria! Deve essersi innamorato del mio fascino irresistibile, vero? Mi misi timidamente davanti a lui e con tono serio mi disse, Linda va tutto bene? Sembri persa? No, scusi, è terribile. Guardai i miei piedi e mi presi qualche secondo per continuare. La mia famiglia è così povera e la vita a casa è orribile. Ho cose belle solo perché i miei amici me le prestano. Lui si addolcì, finsi di asciugare le mie finte lacrime. Ti prego, non dirlo a nessuno, non sopporterei la vergogna. Mi basta solo avere te con cui parlare, sorrisi. Sì, certo, mi guardò e disse gentilmente. Quando vuoi. Oddio, i suoi occhi erano così grandi e blu e... potevo annegarci dentro. Di certo anch'io gli piacevo, ma non poteva fare niente perché era nervoso, essendo lui il mio prof. Ma presto avrebbe capito che eravamo davvero fatti per stare insieme, come Ariana Grande e Dalton Gomez. Restavo dopo le lezioni per poter parlare con lui della mia finta, terribile vita familiare. Lui mi ascoltava e mi rassicurava sempre. Era così dolce e sensibile. Poi una volta lasciai la classe di Colin e trovai Scott lì ad aspettarmi. Gli dissi di andarsene e me ne andai, ma lui mi seguì. Allora, ti piacciono i vecchi adesso? Cosa? Lo guardai male. Sì, non sono stupido, so che ti piace il prof Alton. Devi uscire dal mondo dei sogni e vedere che lui è su un altro livello rispetto a te. Irritata da questo, lo guardai negli occhi e dissi con disprezzo... No, Scott, sei tu su un livello diverso dal mio. Una cinquantina più in basso, per essere precisi. Feci un pollice in giù. Sembrava ferito mentre mi voltava le spalle e camminava. Se l'era cercata. Andai fuori e vidi Scott attardarsi a parlare con Patty e Lois. Non mi videro. Così senti Scott dire... Non riesci a vedere quanto è tragica. La conosci, è così testarda. Certo, al prof Alton non piace in quel senso. Ahem! Finsi un colpo di tosse e si girarono a guardarmi. Misi la mano sul fianco e li fissai. Senti, scusa Linda, siamo preoccupati per te. Sì, questa tua fantasia ti farà male. Eh? Cosa ne sapevano? Girai gli occhi. Per vostra informazione, io e Colin usciamo insieme. Mi porta fuori stasera, quindi non posso uscire. Mi allontanai dall'altra parte, sapendo che le loro facce sarebbero state impagabili. Lo so, Colin non era davvero il mio ragazzo. Ancora. Comunque sarebbe successo presto. Era scritto nelle stelle. L'indomani, entrando a scuola, vidi alcuni dei ragazzi bisbigliare tra loro e indicarmi. Ok, strano. Forse era il mio nuovo vestito o altro. L'avevo comprato perché era del colore degli occhi di Colin. Ma le cose divennero più strane durante fisica, perché quando Colin entrò tutti risero. Colin era confuso e disse. Ok, che c'è da ridere? Poi questa tipa, Sally, borbottò. Prof, abbiamo sentito che lei ha una ragazza. Alzò un sopracciglio. Sì, è vero. Come lo sai? Rise nervosamente. In realtà questa camicia è un suo regalo. Sentì gli occhi di tutti su di me. Beh, tranne quelli di Colin. Cercai di stare calma, ma dentro di me ero furiosa. Come osava un'altra rubare il mio uomo e fargli indossare quella camicia orribile. Sapevo di dover continuare a mentire. Così dopo lezione andai da Lois e Patty. Quanto è carino Colin con quella camicia. Entrambe mi guardarono. Poi Patty disse. Quindi tu esci davvero con lui? Sì, annui. Bene, mi guardò scettica. Tutti dovevano capire che io e Colin eravamo seri. Così presi delle caramelle e feci un cuore con scritto ti amo tesoro con la mia penna allo zucchero filato. Mi sentì un po' nervosa mentre mi avvicinavo a lui, ma era per il nostro amore. Ciao Linda, posso aiutarti? Ti ho preso questo. Misi il regalo sulla scrivania. Lesse il biglietto e la sua faccia inorridì. Poi con voce ferma disse. Ascolta Linda, è sbagliato. No, scossi la testa. So di piacerti. Linda, per favore, sei una mia studentessa, sei una bimba. No, dobbiamo stare insieme. Tu mi ami, so che è così. Non è vero, disse lui. Ti prego vattene. Ha respinto me. Era dovuto alla sua nuova tipa, ovviamente. Avvelenava la sua mente, perché non potevo non piacergli. Sarei stata lì finché non diceva che lui mi amava. Così piangendo mi misi sul pavimento e piegai le braccia. In quel momento Patty e Lois corsero nella stanza e mi fecero alzare. Poi guardarono male Collin mentre mi portavano nel corridoio. Scoprì che mi avevano seguito e visto dalla finestra. Che imbarazzo. Pensando in fretta piagnucolai. È un'idiota. Gli ho dato tutta me stessa, ma ora si è stancato di me. Mi ha scaricata. Proprio così. Le mie amiche mi consolarono dicendo che non l'avrebbe fatta franca. Non potevo affrontare di nuovo Collin. Così finsi di essere malata e rimasi a casa. Solo che quando tornai a scuola lui non c'era. Poi il preside mi chiamò nel suo ufficio. Entrai e vidi i miei genitori seduti con un'espressione devastata sul viso. Oh no! Cosa succedeva? Tesoro, ci dispiace non averti protetto di più. Mamma mi guardò con occhi lucidi. Poi il preside disse. Il signor Olton è stato licenziato e la polizia indaga su di lui. Non succederà più niente del genere. Era stato licenziato. Perché? Poi la realtà mi colpì e pensavano che avesse avuto una relazione con me. Mormorai. No! Avete frainteso tutto. Non è successo niente. Linda, so che è difficile, ma è un uomo cattivo. Non importava cosa dicevo. Erano convinti che ero così manipolata da Collin che avrei detto di tutto per scagionarlo. Dopo la riunione vidi Patty e Lois. E mi dissero che odiavano vedermi così turbata. Così avevano detto al preside di me e Collin. Feci un respiro e poi sbottai. Ma l'ho inventato. Tutto! Di certo erano furiose con me per aver mentito, ma dopo aver sopportato tutti i loro capricci mi aiutarono a riabilitare il suo nome. Così vennero alla polizia con me a raccontare tutto. Funzionò perché Collin fu scagionato, ma non è più tornato a insegnare nella mia scuola. Noi tre fumo sospese e i miei mi misero in punizione per un mese. Patty e Lois sono ancora mie amiche, ma forse non si fidano più di me. Ogni volta che dico loro qualcosa si guardano del tipo... Sì, certo. Mi senti così colpevole. Non avrei dovuto arrivare a tanto. Il mio comportamento infantile è quasi costato il futuro di un bravo uomo. Vorrei potermi scosare con Collin, ma non ne avrò mai la possibilità. Badate alle parole, perché possono rovinare la carriera di qualcuno, la sua vita, tutto. Se come me adorate il vostro prof, rispettatelo, per favore. Siate gentili e lasciatelo stare.